eurotrack promoz simulatore 1 o simulatore 2 simulatore 1 o simulatore 1 simulatore 1 o simulatore 20 ok 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 Grazie. Un minuto. No. 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 Sì, sì. Sì. Ok. 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 Sì. i join i am play ps4 ok where are you on map map i play i lunch attend je vais utiliser google traduction google translate google translate google translate i you 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 grazie oui papa stil 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 heureux tronc mp Non, promozzi, non simulazione 1, ok, ok, simulazione 1, no, ah, wow, perché? Promozzi, non ho promozzi? Promozzi. Non, promozzi, ai, promozzi, ai, promozzi, ai, promozzi. Allora, guardando i vostri amici. Sono in Ostebro, Danmark. Sì sì, ehm... Oh, guard... Eh, ti 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 ti... Alors, tu vois... Eh, oh... Oh, pourquoi on le... Eh, oh... Eh, oh... Eh, video translate... Uh, traducción... Uh-huh... Eh... Simulator 1 o sim... Simulator... Simulator 1? Non, promotes. Ah, ehm... Non, j'ai pas... Ni non promotes. Non promotes, tu? Tu non promotes? Alla, sì, alla, sì, sì... Vieni su promotes. Com tu promotes. Ah... Euh... Go ahead translate... Donc... 10 secondes... Uh... Pi, 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 pi... Voilà, go ahead transition... ... ... Uh... ... 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 e ho capito ah, sono detto di sì prima vabbè, simulation 1 no, simulation 1 assimilazione 1 sì, sì sì, sì sì, sì, sì sì, sì, sì l'autompa luto s4 ps4 qui dove sei a traghese M&P dove vuoi andare? dove sei? non in inglese ok, sì traduction italiana francese francese cosa dovrei fare? è andare nella mappa cioè sei nella mappa? in the map in the map France, Italy, Switzerland Germany dove sono? se non lo sei a te dove sei? io sono aspetta mettiamo Milano quanto a Milano ce l'hanno tutti non lo sei a te non lo sei a te non lo sei a te dai un'occhiata eh, francese cioè eh si Milano Sir Milano o Chrome eh sono di livello 3 si ok ma Milano ce l'hai Milano vai go to Milano Milano Italy Italy, Milano vengo a Milano se Milano 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 Cargo 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 l'eserci i i i i i i o i i i Grazie a tutti. 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 C-H-E-V-U-O-I trasportare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Aspetta ti metto nella sezione Eurotrack, wait, in Discord. Un secondo. Ok, simulation 1. Milanese. Milanese, sì. Milanese, sì. Milanese. Cargotras e company. Camionette. Camionette Scania. Camion. Ah, camion d'occasion. Camion. 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 Sì Sì, sì, Milane, sì, Cargo Truss. milan e c'è solo una milan e milan e italia c'è solo una milan e carto Su, su, su. Nord. Google Translate. Nord. Sì, sì, Google Translate. Nord d'Italie. Sì, sì. Milanese. G. Non ho ancora visitato la città. Ah. Torino. Torino. Non posso teletrasportarmi lì. E dove sei? Sono a Berlino. Ok. Venga a Berlino. Berlino. Ok, sono a Berlino. Ok. Sì. Che. Ma Melanet Eh sì In Berlino dove? Company Anzienda Attene il tab non ti vedo Wow Speed Speed You are spirit Ma Berlino dove? Che fa così storia? Bet Wow 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 Grazie. Dove sei a Berlino? Berlino dove? Sì, sì, sì. E dove sei? Sì, Berlino. Berlino, Berlino. Berlino, Berlino. Map, please. Cart, map. Berlino, Berlino, I am, ok, ok. Talalalala. Ah, wow, wow. Oui, oui, oui. Oui, oui. Ah, non, non. Tch, 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 tch. U, d'occasion. Ah, ah, ok, ok. Tch, 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 tch. Berlino, Berlino. Berlino, sei a Berlino? Sì, sì, sì. Eh, dove? Eh, dove? Garage. Garage, ok. Bus, bus. Bus? période. Have a l exactement there of a while. Are you 15 minutes with it? The camera is full. garage garage non mi sembra ci sei no 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 hai detto garage l'hai detto te google translate allora pullman pullman dove pullman che porti pullman ah non 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 eh si 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 non ancora ancora speed no ancora si 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 après a droite voilà speed eh 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 dritto si dritto a droite voilà a droite voilà si ee c'est bon guarda erbo destra la 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 simulatore 2 o simulatore uno 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 on 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 no 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 on 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 ok prova a riavviare ma penso di essere online simulatore simulatore a mi passi davanti ma non mi vedo nel tuo streaming aspetta 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 Ehm, pe 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 pe... Ora, come in realtà? Ora, come in realtà? Ehi, por Dio... Ci sono, eh? Ok E questo? Sinistra? Sì Sì Ma sei te questo? Lo sei Ah... Ok Mi stiamo avvicinando Ma perché fa così sto gioco? Chi è entrato? Quella! Ehi Ma no, quanta gente c'è? Oh, eccolo! Vedo il pallino rosso C'è problemi in linea sempre? O Comunque se no... Ehm, ma... Oggi va male, c'è po' la linea Eh, si vede? Beh, sì, ma... E' il server Ma tu sei napoletano? No 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 Ah, ok Eccolo... Eccolo... C'è... C'è... Ah... C'è... Eccolo... Oh, sta buono, sta buono... Dov'è che cazzo non andava? Stai usci dentro stasera Cosa? No, 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 è questo qui Boh, è fermo in mezzo alla strada Dov'è prendere lui il lavoro? Eh, lo vedo Ma ci vuole tanta degli prendi un lavoro, no? Tre ore Da 37 minuti gli sto dicendo che prendi qualcosa Ma quello di prima? Sì Vabbè, ci credo, è francese È fermo, boh, non si sa Oh, per te Cazzo Oh, ma almeno sapeva l'inglese No, no, non è quello Au A Cicciu Sì, ho capito, ma se non ti muovi sei in mezzo alla strada Prendi un lavoro, no? So che sei qui Ma è sordo questo? Bro Tra Devo farlo abbannà, eh No E però sei incastrato No, non sei incastrato Dietro c'è lo spazio Bene, per uscire C'è lo spazio Oh Dietro Vai indietro Dietro Back Vai Vabbè, a prendo qualcosa io S'attacca questo, eh Bcp Andiamo a bcp A prendere qualcosa Sì, puoi farlo dietro? Cioè io sto andando a prendere il carico, eh Madonna, il lago oggi Se non mi mettono la fibra da me C'ho 20 mega io Sì, lo so che è entrato, ma se non mi segui A me non ti ha seguito Su Twitch sì, ma non sul gioco Lo piglio io, poi se lo piglio a lui bene Marone, bordello, i Mappa Andiamo a Dresda Non parla manco inglese, né tedesco, né spagnolo E c'è dopo Io il francese l'una Che cosa non lo so Anche il rumeno volendo Ma proprio il francese non lo so Almeno lo spagnolo lo sa No, non sa nulla No Sta solo la sua lingua Solamente il francese Cioè tu puoi parlare in arabo Guarda già in arabo è più capibile Infatti Guarda, parla anche cinese Xixi Ni hao ma Cin Tipo così Come Cos E' sparito il pallino rosso C'è Bru ci sei? Bru è chiamata però Non risponde No Bru Uscite anche da Joe Aspetta però Chiude Hello No, non risponde Hello Ora si Ci sei? Hi Siamo tutti in gang Allora, ti ho detto Vieni Berlino Ciao Benini Berlin 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 Exit The game You have left the game Ma manco l'inglese sa Ma ci vai a scuola Esiste la scuola in Francia Si Fra No Sinceramente come fa A non studiare D'inglese sa scuola Ma ha detto Non lo sa Non sa nulla Ma ha detto No Vivi in Argentina Do you speak English? No Non lo so Nein Nein Si Nein tedesco Ja Nein Deutsch Du sprich Deutschland Ja Ja Was sprachst du? Deutsch No Italienisch Franzosisch Ja Ich heiße in Berlin Ich heiße in Berlin Kommt zu Berlin Habla spagnol? No habla spagnol No habla spagnol Perfetto Che idioma habla? Franzese e basta Stop What best Eh the best Eh in francese Non lo so Capito So anche napoletano Svu Si La lingua De ruti Non la so Franze No Je ne parle Franze Mi? Tu? Ah ok Ok Si Tu venire in Berlino Ora Berlino Deutschland Il muro Mur of Berlin Sai dove è il muro di Berlino? Cioè dove c'è il vecchio muro di Berlino? The wall Presente? Hitler Zona Hitler Eh Hitler Berlin Hitler Ja Deutschland Oh è il francese Lo mette adesso Non so se hai capito Non so se hai capito Si fa notte Manca poco No è francese È francese Ok Sì ma vive in cantina Non so né nell'inglese Né nulla sa Non sa manco dove è Berlino Figuriamoci Buon pomeriggio signor Ibrandoni Buonasera Alla Tu 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 Intiende? Tu Venire Berlino Sì ma l'idea in francese Mian tedesco Oh lo vedo è ritornato il pallino Digli vieni dove so io Cosa? Ha detto è a Berlino Sì lo vede a Berlino Ma è fermo Digli che deve venire da me Ok Tanto il pallino rosso lo vede Blu rosso verde Quello che è Eh Leon Eh Vien Amoi Sì Amoi Berlin BCP Sì è fermo Wow Sping Sping French Please Eh Vien Amoi Amoi È qui Eh Hai capito Ha C'è rite Molto forte Ad Stacco Hai Non Non mi muovi Voglio Ti ha rite Tante porte Sto qui Non sto a muovermi Che devo fare Ti parlo Parisi Ti parlo Napoletano Ti parlo Siciliano Ti parlo Toscano Come ti devo parlare con te Se no non capisco mai Niente E vuole stare parlando Ma siamo passati Però Ma ti apposta Ti ho parlato francese Non capisco mai Non capisco mai Nul Ti do Vi parlo La lingua Degli ufo Ok Pepe Ma Com Qui Ce l'hai l'acceleratore Esiste Il pedale L'am è Le Gioel Nome Yannafeo Sì Lo vede Il pallino È rosso di palline palline ross in map berlin map hai presentato una mappa sa cosa una mappa map berlino io essere rosso tu essere rosso no non è a marzia è a berlino perché lo vedo è qui almeno ci sia un mio amico ricardo e la carte si che è spagnolo ricardo e la carte ma chi è sto pallino rosso se no se non è lui perché pallino rosso di che amico no è lui si si no non è a marzia è a berlino aspetta follow me aspetta wait madonna sta un'nessione oh my god oh my god mi puoi dire di muoversi e veni da me in qualsiasi lingua eh still tap light ma tu sai il suo nome no il game eh leon questo qui è il pallino rosso il pallino rosso è dove è il primo aspetta qui c'è uno devi dare la precedenza berlin si dietro in back of you dietro com'è se dice in francese dietro no direi direi sì direi è tedesco quello oh buongiorno hai trovato oh il burro è ancora imbuggato lì tab tasto destro current copy job capito capito ti fermo in mezzo alla strada ah è lì da 15 minuti fermo ti chiamo il carattrezzi eh ti chiamo johnny carattrezzi ecco bene dove sei finito che ha fatto f7 ha chiamato johnny ah ma non era bloccato beh c'aveva un sacco di spazio c'aveva vabbè è uscito eh ma se rientra magari non poteva anche f7 al massimo è al garage sì è certo ma se non si muove vieni tanto se c'è lo vedo lo vedo eh ora sono al garage scriviti sono al garage di berlino e 25 gli ho detto ho perso il conto guarda leon e garage l'officio jesuica di berlin sembra brasiliano vabbè bra è l'unica cosa che riesco a fare che il brasiliano è tutto a o e o io tutto così anche a toma tu senti parlare brasiliano tutto così brasiliano così un po' storto non lo vedo ancora leon tu vas bien todo bien mio amico non è sta bene infatti non parla più allo sì 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 berlin sì ok allora tab sai cos'è tab sai cos'è un pc tab tab tasto tasto appoggiate a your slow glass tab mio nome mio nome tasto destro copy current job sì e ho capito se hai garage ti vedo so dietro a te mi vedi eh sì sì ok ok dritto dritto e poi sinistra left eh sinistra capito capito si si va va a sinistra all'e all'e schierda schierda e poi derece left and right a sinistra 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 e destra mi screen mi screen mancavo sta linea a fare lo schermo vabbè guarda le clan discord no digli di copiare il mio lavoro digli di premere tab proprio scrivilo si premere tab selezionare io copiere io sono travails ok ma dimmi allora digli premere tab di cercare il mio nome tasto destro è di copiare il mio lavoro aspetta ma non sono nato a casa aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo aspetta un attimo vuotre non et copie son travail aspetta un attimo Ah tu copie Si 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 Bien bien Oye Anna Eccomi Oh Ianna Ianna Gli abbiamo parlato Ha capito Di copiare tutta la roba E lui ha detto di si Spero che l'avrà fatto Si io ce l'ho Il lavoro pubblico Si che E lo vede Gio lui ha detto che Ha già copiato Il tuo lavoro Me l'ha detto a me Eh ma non Ah digli di andare a prenderlo Il carico Ok Eh aspetta Digli vai a prendere Il carico Leone Ok Mantenente Va Cercare De voi Lasci escire La precedenza La precedenza è fermata La freccia La freccia La freccia agli indiani Si Maronna mia All'incrocio E stiso ferma Oh Ah c'è la precedenza Mamma mia Su marciapiedi Si è mosso Eh mi sa Boh Ma c'è lui In chiamato si Eh Fì qui ci sono arrivato Va Non lo vedo muove Degli di andare a prendere il carico Ah ok ok Eh Tre volte te lo dico ciccio No Oh Stai svegliato No Questo non è mia lui Si Però più Più che altro Che ci sta Che ti Che ti sta facendo No Vabbè no Però più che altro Non capite Sta prendendo per il culo Cioè Vedi Vedi C'è i rimorchi Prendono anche te No Io l'ho detto Si Eh Ma io non lo vedo No C'è A parte Voglio capire Come ho fatto A incontrare Oh eccolo L'hai trovato Si è 119 Ma è fermo Dichiete muoversi Muovete More women Do leon Mh 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 Un Mh ho 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 uuh che 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 giura fra giura fra ma quindi sei su ero stricca ma dai a me che non lo sapevo scherzo sai se no io non posso non rispondere è fermo lui eh ma fermo nello stesso posto nello stesso posto si 119 metri e 70 sempre lì fermo mi farà capirebbe più mia nonna che è spagnola ma digli di andare avanti di muoversi ok leon può survivere eh deve mettere il mio carico eh lui dice che l'ha messo eh se l'ha messo gli dirà di andare a prenderlo no? eh l'ho pure dato quello però non ha dato niente digli che se sia che se l'ha messo il mio carico di andarla a prendere no? è fermo lì devi sei un pochino Leon, se tu hai sette le poste, valli a cercare. Sì, e vai Maron, correggia lui e poi, ma, se hai capito vai, no? Io spero che avrà capito bravo. Ti correggia a te e poi manco capisce. Ora manca che non sa manco il francese. Chiede dove è il carico. Digghi che al signorino che se prende il mio di carico, lo vedi dove deve andare a caricare. Io lo metto sulla mappa. Di prendere il mio carico e di dire, cioè, tanto glielo fa vedere a lui dove andare. Sì, tu presi un colis a tu per il lavoro. Sì. Sì. Ma che è successo? Sì, ma l'ha presa, ok, ora si è mosso. Sì. Ma già a sinistra, ma è fermo lì un'altra volta. Alleluia. Digghi che deve prendere il mio carico. Ok. E... Sul tab. Penso sia lo stesso. Come se chassi. Ehm, ehm... Ehm... Misfi dicerò... Ehm, brandi sashash. Sashash. si è certo si deve muovere da prendi carico e glielo dice a lui dov'è il carico il carico non dove so io ma ha fatto il tab chiedigli se ha preso il mio lavoro dove sta il carico se prende il mio lavoro sul tab lo vede dove sta il carico ah forse ho capito cioè lui è pronto per seguirti per prendere in carico con te praticamente eh ma io l'ho già preso il carico eh forse lui mi aveva detto che anche lui aveva preso il carico no non lo ha preso il carico perché lui non ce l'ha rimorchi dietro ah ok semmai lo va a prendere lui e poi tanto lo so dove va tra dove è l'uscita digli copy current job di copiare il mio lavoro sul tab lo saprà dov'è il tasto tab non può scegliere e vor di certo può scegliere cose pubbliche ho un problema sulla tastiera allora non può prendere un carico vabbè digli di seguirmi e pace vabbè digli di seguirmi e pace vabbè digli di seguirmi e pace vabbè mi seguo e basta ok quanto io ho massimo 98 Succe le fai Succe le simple Giulia, ti un plan Ti un plan Ti stai seguendo il bro Ok Ti stai seguendo Si Ok, almeno quello Si, meno male, ma lui il carico non l'ha preso Mi sta seguendo senza carico Fra, ma almeno ci ha giocato un giorno a quel gioco Do Si 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 Io faccio vista questa acqua Gio un po' in abroad Eccomi Cosa è successo? Ho detto poi stacco, dopo stai Vado un po' in giro a super 1 Ok Ma dopo Questa cazzo tu cosa fai? Boh Oh io aspetta, perché fa così oggi? Tu quando metti video su TikTok? Ma da tanto, cioè su quel canale lì non li metto quasi più Metto sull'altro semmai Ah, quelli dei Shorts? No, non quelli Shorts è su YouTube Ma non si può giocare così Poi fa a volte Beh, beh, va così Beh, beh, va così ma davvero che ti chiami Filippo? sembra che ti chiami Giovanni non lo so, già da sentire con la voce da Giovanni no, comunque il mio carico non ce l'ha, te lo posso assicurare ancora tranquillo guarda che non ha che gioco col gioco ma tu da quanti anni registri? eh, tanto, tanto questo qui è quest'anale 4, l'altro è da 10 anni forse sì sì, 10 anni sì però beh ho iniziato a registrare a quanti anni? eh, 7, 6 7, davvero? Anche 6? però lì avrei pochissimi iscritti avresti sicuramente 2 quasi ma quando hai iniziato a registrare cosa fai? cos'era? un po' video a casa della casa mia però la precedenza a destra ah, ok, devi girare posto oddio il cartello infatti, io non so perchè non ho voluto, non ho mai visto i tuoi vecchi video i tuoi vecchi video per com'è, non so che, mi ero dimenticato ma a me se non li guardi chatina, non ho proprio il video, tutto il video ok gianna è un video mettiamo meno recenti 3 anni fa eh, era di 3 anni fa sì, del 2020 però tra poco su 4 il tuo primo video era di 74 visual mhm ora, quelle di recenti vanno per il tipo 29 19 eh, sì, prima sì molto meglio, no quindi, fra secondo me i tuoi vecchi video forse aumentavano più le visual sì giù uno di 226 quando morirai hai provato anche l'app che ti dice quando morirai sì da cosa è uscito guarda 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 mi guarda il video da mi guarda il video da e già con la musica mi piace io chissà che musica ho messo ok, lo scarico lì avete 15 anni ok 13 in 349 giorni sono già passati da chi sì 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 sono già passati passati cattura schermo ma 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 da quando hai mandato un video di roblox? due ore fa mhm brah hai provato di scrivere il toilet serio? sì è serissimo ma ti è piaciuto? o nesto? mhm della sì è è in è Ok, abbastanza. Abbastanza è abbastanza. Oh mio Dio, questa dovrebbe essere la tua vecchia intro del canale. Io faccio un McPay ora. Tipo diceva system hacking. No, quella mi sembra... me l'avano fatta a me ma non l'ho masata. Ah, chi te l'ha fatta? C'è scritto, mi sembra... Ma perché non metti più la intro? Che ci sta un sacco. C'è scritto, la musica... C'è scritto. Bro sta ascoltando musica. Bro uscito. Aspetta, ti sposti in generale. Ok. 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 Corso. Ma sai... a me è cresciuto tutto ti salto il pino con il pino l'albero hai visto il video lo so guarda whatsapp ora già da l'immagine parte che su instagram vediamo bravo guarda che va la mucca in casa lo farai Ma? Ma. Quando va? Ah, da, da, da. Grazie a tutti No, io avevo trovato questo video su TikTok così a caso Ho mandato nel gruppo No, ho visto Ma poi così a caso Ti ho seguito Cosa? Ti ho seguito Su TikTok? Grazie Vediamo Secondo me no Ok mi dovrebbe uscire Ah è vero Mi è uscito Eh grazie Seguo anche a te Hmm Hmm e gianna peo l'altro è filippo robo si gianna peo e qual è cos'è è un gruppo praticamente che è un gruppo gianna peo su tiktok no sono io ma sei proprio te e filippo bartali sei te ancora si ma però con un altro account perchè non fa spotify oggi che li prende ma guarda un po te questo che che diventi tipo un'altra persona ma tu capri youtube a te che ti mando a te mando altri video ma nel suo gruppo si lo mando su questo è bellissimo questo è bellissimo io te la mando e non posso mandarlo credo e a tutti non è bello non è bello non è bello e non è bello non è bello Sto proprio chiamando un mio amico Grazie a tutti 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 Password Grazie a tutti Grazie a tutti Oh Ok Ok Oh, questa Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Allora Grazie a tutti No, no Grazie a tutti 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 Connetti Grazie a tutti Grazie a tutti I Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Vediamo se Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Perché Un video Grazie a tutti 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 Ok Grazie a tutti Food Grazie a tutti 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 E' Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E' Peccato No E' Il livello No, ma Grazie a tutti Grazie a tutti Ok E' Grazie a tutti E' 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 Grazie a tutti Ti avvicini e Benissimo E' Grazie a tutti E' Grazie a tutti E' 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 E che ha usato ha usato la super e poi si perde pure punti Oh, no, 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 no no, non ci posso crede, dai bro, quella là non aiuta Oh, no, sono tutte e tre lì Quello è fermo, è fermo quello lì, è fermo Oh, staffa, con l'autocoll non c'ho vita te l'ho detto si dove corro ho 300 vita l'altro dorme tutti a destra su 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 questo che fa ma questo qui che fa che fa non fa nulla è sulla linea il pallone è sulla linea ma che fa ritorna indietro era sulla linea il pallone ritorna indietro lui e non è ancora supplementario no no ma che è supplementario ma che è supplementario no dai me l'hanno parata ci sono io vai bravo devo prendermi una ricompensa vai vai ah fraccia e martis quello là che è tipo sembra ninja è forte bene ma ti era un colpo a mamma ma fraccia io devo difendere cioè devi fare tutto te perché l'altro boh ma che fa oh ciccio vai 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 che ti proteggo vai vai eh c'è gli altri nel mezzo non che faccio da solo diciamo l'altra peppa pig signora mi è persa di vedere un insieme peppa pig oh e niente so gollo grande ah george pig ok bello bene 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 uh 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 sì bello bella partita bella partita bella partita bella partita ma come ha segnato questo grande ci so io eh e ora sono un po' lontano oh quasi sono vivo ma non so come niente sono morto anche io morto perché la perdiamo sì benissimo no a me food bro non mi piace sopravvivenza ok mio dio fra quel po' c'è quello là è forte questo 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 ok c'è uno stai attento oddio 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 dove hai spuntato visto non scappa è andato no è andato su vabbè tanto ci sei te no scappa vai via vai via ancora vivo non so come non so ancora vivo c'è un 146 di vita mhm ok prendilo 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 eh furbi vai via vai via vai via vai via eh ma lo so non è se lei mi sa lo sanno lo sanno è impossibile se la poteva aspettare tre secondi ritorno io madonna tu toi ma siamo tutti attaccati rimaniamo qua tamperiamo intanto intanto che fanno tutto l'ho ammazzato uno non si è mai che accorto grande vai vai no oddio 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 morto dai seconda almeno no posso prendere jessi eh eh sì sinceramente serve su ko il primo ma mi dice potion ah no ho sbloccato anche potion vero sì ah è vero infatti hai sbloccato pocio è già sì aspetta lo mando su gruppo mandi la foto su primo giorno su brawl che scrivo che pro game tu intanto quante cappe hai ora eh di sicuro più quelle dell'inter di più di quelle dell'inter e quindi un bel dissing ci stava ok ci sta jessi e pocio eh poi vai provo jessi livello 4 ok no si no perché non me l'ha salvato mortale scesura selezione ok ci sei ci sei ci sei ci sei ma vai non so se vabbè facciamo così aspetta dove è dove va andrà tutto bene ci si andrà tutto bene si si andrà tutto bene ok aspetta lo mette ok ora carica oh show show ecco che guarda questo ma c'era pure l'attacco questo potenziato puttana sono stati quelli sta buon sta buon sta buon vai 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 fra me ha tirato due colpi e mi ha ammazzato questo è troppo forte sto lì c'è fra ha scioppato per forza ha scioppato per forza mi ha tirato due colpi e mi ha ammazzato sono 159 coppe mi ha ammazzato per forza se mi è entrata una ha detto se vuole entrare dove? brolo eh non vedi messaggio ah perchè c'è modalità a non disturbare ecco perchè qui è che l'ha scritto? grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Abbandono io e poi rientro. Ok. Invitami. Ok. Ora sono io il leader, però farò un po' se metterlo il capo. Ah, quando sblocchi il capo, lì potrò matterlo. Maronna mi. Chi è squad? Chi è Gabriele VGF? Aiub. Aiub. Aspetta, riscrivi su Whatsapp. Suss. Ah, li metto anche pronto quella. Ok, ha detto ok. Cosa facciamo, Fra? Cosa facciamo? C'è raffagemme, sopravvivenza. Beh, sopravvivenza in due non si può fare. Eh beh. Non si può fare raffagemme e fluboli. A raffagemme dai. Che ha scritto, perché? Aspetta, aprovo Whatsapp. No, Whatsapp è su, aspetta. Chiudo la streaming e apro Whatsapp. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.